Due testi inediti in realtà, tutte e due da una raccolta che si titola Oggettistica. Precisazioni, c'è uno spazio apposito, intorno c'è come uno spazio, uno spazio che ti permette di appenderlo, c'è anche un buco in maniera che così puoi appenderlo e quando lo acquisti è tutto sagomato, i profili sono ben delineati, è funzionale, ci sono le rigature, ci sono delle strisce, poi ha anche un aspetto elegante perché ha le strisce, tutto quello che ha le strisce di solito è elegante, anche se sono strisce sgargianti il fatto che siano strisce dà sull'eleganza. Poi c'è anche una maniglia che permette di afferrare saldamente la presa e di non perdere la presa perché è importante non sfugga in questi casi e che la maniglia lo permetta attraverso la maniglia è possibile operare un'apertura, si apre da una parte e ci sta anche una versione per mancini, si apre dall'altra parte, comunque se non si vuole aprire si può prendere e appendere e infatti come detto viene fornito con un buco dove si fa passare il chiodo, è molto funzionale e quando si indossa può funzionare da entrambi i lati, può anche non funzionare e non essere indossato, quindi viene fornito insieme a una garanzia personale e ci sono tutte delle simmetrie come dei quadrati, quindi infatti è così e se ci sono dei quadrati c'è anche molta eleganza perché come per le strisce anche i quadrati sono un grande segno di eleganza e di ordine, i romani avevano infatti l'opus quadratum. Tutta vita, dopo il semaforo è tutta campagna, dopo il semaforo è tutta enciclopedia, da qui in poi è tutta campagna, da qui in poi è tutta enciclopedia, da qui in avanti è tutto cambiato, è tutto cambiato negli ultimi trent'anni, da qui in avanti è tutta enciclopedia, da trent'anni è tutta enciclopedia, passata l'enciclopedia è tutta campagna, Dopo l'enciclopedia c'è soltanto la campagna, la campagna con il suo sapere enciclopedico diretto, eterodiretto, le erbe, gli uccelli, gli insetti, è tutta campagna. Poi dopo 30 anni non c'è più campagna, da qui in avanti è solo l'enciclopedia, i nomi, da qui in avanti cominciano i nomi, gli insetti, le erbe, cominciano le ruberie, cominciano i ti faccio vedere, gli assessori, da qui in avanti è tutto assessori, 30 anni tutto assessori. 30 anni fa non c'era neanche qui, prima qui era tutta campagna, città con macchie di campagna, nella preistoria, prima lo dice la parola, prima neanche a parlarne, prima della parola neanche a dirlo o a parlarne. Adesso nel cortile ci sono le galline, razzolano in 6-7, sono grasse e marroni solo adesso, da qui in avanti è tutto cenozoico, animali ibridi, pezzi di vegetali, staccati, mischiati, una spora lì, un ramo qui, un corallo nel becco, una scansione inattuabile, irrealizzabile, dei pezzi. Pezzi che restano sconcertati sul tavolo, il tavolo anatomico, sull'inameno tavolo anatomico, tra i pezzi respirano, c'è il respiro grosso nel cenozoico, si respira male, ballano le galline, bollono nella campagna, passano il vitto, passa uno, due, tutta enciclopedia. C'è poco cibo, si stanca, tre, si vede come intorno, come fosse intorno, saranno 6-7, saranno 4, si vede come intorno a un disco, tutto è diventato enciclopedia. Forse anche in meno di 30 anni il disco si vede come intorno al disco.